radio roma capitale informazioni sulla città sono con voi stefania e paolo di roma capitale in occasione delle festività pasquali il 25 26 e 27 marzo il bioparco offre tre giornate all'insegna delle uova e degli animali con giochi incontri ravvicinati esperimenti per conoscerne caratteristiche colori e laboratori di pittura e aperto al mercato del tufello uno sportello per i servizi anagrafici è in funzione dal lunedì al venerdì dalle 8 e 30 alle 14 e si occupa di rinnovi e duplicati delle carte d'identità iscrizioni al portale certificati autentiche estratti e dati notori infine per santa cecilia al volo si svolge il 24 marzo alle 13 e 30 all'aeroporto di fiumicino viaggio nella melodia napoletana un breve concerto tenuto da giovani talenti grazie a tutti